Quindi sicuramente un appuntamento molto importante per progettisti e non solo. Allora io passerei sicuramente la parola ad Alessandro Tagnani per spiegare anzitutto quella che è l'attività dell'azienda. Conosceva i nostri prodotti e ha voluto un po' fare tutto un isolamento sia di contropareti che di controsuffitti in tutta la villa con i nostri materiali. Il problema che poi non è neanche un problema è stato poi far conoscere il progettista di rimando i prodotti. Noi abbiamo fattuato come dicevo prima dei primi calcoli di verifiche tecnologiche